Una iesina concreta e dinamica stende la San Benetese a Riviera delle Palme e rafforza le proprie ambizioni. Playoff affidabile e rodata, la squadra di Fenucci non ha concesso nulla ad una samba apparsa stanca e priva di idee. Senza Oliari e Grieco squalificati con Di Vicino che non riesce a recuperare, Palladini manda in campo la stessa formazione che una settimana fa aveva battuto la Re Canatese con il solo Pulcini, al posto di Porpora come centrale vicino a Mengo. Ridà fiducia a Chessari dopo gli errori di Sant'Arcangelo. Dando in questo caso ragione al tecnico rosso-blu, Moscarino e Nicolosi esterni di difesa, De Rosi, Rulli e Cucu a centrocampo con Caligiuri e D'Angelo in supporto a Covelli, unica punta. Fenucci ripropone il suo elastico 4-3-3 che ha steso mercoledì il Teramo con Gnosi tra i pali, Pascucci e Sassaroli esterni, centrali Marini e Bugari che sostituisce Capitan Focante, Cuttone invece di Sebastianelli in non perfette condizioni con Frullo e Strappini in mediana, Negro, Bediaco e Invernizzi in avanti. Avvio vivace con la Samb che si fa vedere per prima al settimo, D'Angelo libera il sinistro ai 16 metri, Gnosi in tuffo, devia in angolo. La Iesina non sta a guardare, quando parte di rimessa sa di poter far male, dal nono va vicinissimo al vantaggio in contropiede con Negro che appoggia per Invernizzi, sul tiro dell'attaccante Chessari tocca con la punta e le dita e devia sul palo, Bediaco arriva per il tapin ma viene chiuso in angolo in extremis. La manovra della Samba è lente e prevedibile, i ragazzi di Palladini faticano non poco a trovare spazi al sedicesimo, D'Angelo serve bene in area Covelli che ritarda la battuta e si fa chiudere in angolo da Bugari. Sugli sviluppi del corner è sempre Covelli che di testa manda di poco a lato. Ritmi alti e qualche imprecisione di troppo nei 16 metri finali non regalano altre occasioni, fino al 23esimo Invernizzi prova a pescare il jolly dalla distanza, Chessari è attento e devia in corner. La svolta del match arriva alla mezz'ora dopo un tiro di Cuttone dalla distanza, un difensore della Samba devia parabola che diventa insidiosa, Chessari è strepitoso ad alzare in corner, ma non può nulla quando sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Negro mette in mezzo e Covelli devia il pallone nella propria porta. La reazione della Samba si esaurisce nella conclusione dal limite di Cucu, un minuto dopo che Niosi blocca a terra la Ilesina sulle ali dell'entusiasmo, altre due occasioni intorno al 34esimo sempre con Invernizzi, che prima dalla distanza scarica un destro violento che chiama Chessari alla respinta e poco dopo approfitta di una indecisione della difesa rosso-blu per lanciarsi in acrobazia ad insidiare ancora la porta di Chessari. La Samba prova a riorganizzarsi, ma non riesce a creare altri pericoli. Prima è l'intervallo ed anzi al 40esimo perde Moscarino, che deve lasciare il posto a De Nigris. Le due squadre tornano in campo dopo il riposo con gli stessi undici che avevano chiuso i primi 45 minuti e dopo una punizione centrale di Cucu al 47esimo, Palladini toglie uno spento di rosa per inserire Zazzetta e dare maggiore vivacità alla manovra della Samba. La squadra spinge al 54esimo, sugli sviluppi di un corner da destra il pallone arriva a Cucu appostato al limite dell'area, il suo destro è centrale, Niosi blocca. Provano a metterci il cuore i rosso-blu al 58esimo, Rulli recupera caparbiamente palla e lascia al destro di Cucu dai 20 metri. Il centrocampista rosso-blu non inquadra lo specchio della porta. Fenucci, dopo aver richiamato Bediaco per il difensore Lucarini, sostituisce anche Negro con Sebastianelli, passando di fatto ad un 5-4-1 che imbriglia ancora di più i rosso-blu che rischiano di subire il raddoppio al settantesimo quando Invernizzi semina il panico sulla destra prima di venire chiuso in angolo da Pulcini al momento del tiro. Palladini due minuti dopo sostituisce l'eroe dei domenica scorsa a Caligiuri, oggi inconsistente per inserire diritto ma non cambia la sostanza con la Samb che pur completamente riversata nella metà campo ospite non riesce mai ad impegnare Gnosi e resta anche in 10 al settantottesimo per l'espulsione di D'Angelo. L'unica cosa che riesce a creare la squadra di Palladini è un cross all'ottantacinquesimo di Cucu su cui diritto si lascia anticipare in angolo da Bugari. Fenucci dà spazio anche al 94 Gabrielloni che si mette in mostra all'ottantottesimo quando dopo una serie di dribbling in area della Samb chiama Chessari a mettere in angolo. L'assalto finale dei Rosso-Blu procura solo tanta confusione con Pulcini che sale in avanti a compagnia a Covelli e diritto ma la Jesina in contropiede chiude il match al 94esimo con Invernizzi che si presenta solo davanti a Chessari e lo batte con un preciso esterno destro legittimando vittoria e posizione in classifica. Sognano ora i ragazzi di Fenucci mentre per la Samb uscita tra le contestazioni di un pubblico imbufalito c'è di nuovo bisogno di tornare a guardarsi le spalle?